E' stata indetta per il 31 maggio prossimo dal Comitato Insieme per l'Acqua di Ribera, una manifestazione di protesta a Palermo davanti Palazzo d'Orleans, con raduno a partire dalle ore 11 per chiedere a gran voce che venga garantito il diritto all'acqua per l'irrigazione nel territorio del Riberese. Comitato che accusa di inoperosità il Governo regionale per non avere ancora attenuato con misure d'emergenza la grave situazione di siccità in cui versa tutto il territorio. Nonostante incontri con i responsabili dei vari dipartimenti, con il commissario per l'emergenza idrica, diversi tavoli tecnici ed esortazioni del prefetto di Agrigento, si legge nella nota, non abbiamo ancora avuto nulla, nessuna azione concreta per rassicurare le migliaia di aziende agricole di Ribera e dei 13 comuni limitrofi che coltivano l'arancia di Ribera DOP, la peracoscia di Ribera, e la pesca di Bivona IGP. L'acqua del fiume Verdura continua a finire in mare ed Enel, dalle centrali idroelettriche, continua a produrre energia, disperdendo l'acqua invece di incamerarla nella diga Castello. Il Comitato, visto lo stato d'emergenza e l'inizio della stagione irrigua, chiede che si indichi subito la dotazione di acqua della diga Castello da assegnare all'irrigazione e che venga data attuazione al piano di interventi a breve, medio e lungo termine, che vanno dal collegamento permanente della bretella Gammauta Castello alla risoluzione della convenzione con l'Enel, dalla riattivazione dei sollevamenti sul fiume Verdura, rifacimento delle reti irrigue del comprensorio, che oggi sono un colabrodo, a misure finanziarie specifiche per il risparmio idrico e per l'aumento della dotazione irrigua sia a livello aziendale che comprensoriale. Il Comitato Insieme per l'Acqua invita i sindaci, i deputati, le organizzazioni professionali, i consorsi, le associazioni e i cittadini dei 14 comuni del comprensorio ad aderire alla manifestazione. Dopo tanti investimenti e traguardi raggiunti dall'operosità dei nostri produttori, conclude il Comitato, adesso è in gioco il futuro socio-economico dell'intero comprensorio. Grazie.